Mi dispiace molto che questo quarto gol di Camata non sia stato validato perché penso che sia stato un momento molto bello per un giovane giocatore che ama tanto il Milan, che ha una ligazione speciale con i tifosi, ma anche è stato un momento bello per la squadra, che sono stato tutti insieme a festeggiare un gol di un bambino che lavora tanto per avere questa opportunità. Mi dispiace, penso che Camata e la squadra hanno meritato avere questo momento, ma lui avrà tante opportunità per fare più gol durante la sua carriera. Io sono sicuro che tanto io, come l'allenatore del Primavera e l'allenatore del Milan Futuro, vogliamo avere per Camata la miglia possibilità possibile per fare progredire un giovane giocatore. Quando qui noi abbiamo Morata, abbiamo Abrami e Luca e Jovic, diventa un po' difficile per Camarda, non è allenare, è avere la possibilità di giocare. Penso che in questa età è importante il giocatore di giocare. Quello che facciamo è cercare di avere il meglio spazio per far progredire Camarda, per volte è in Primavera, per volte è in Cerisi. Per volte sembra che è più difficile giocare qui che la Serie S, per volte è più difficile giocare nella Serie S, nel campo, sono le caratteristiche dell'antiversario, sono giocatore tutto esperiente, noi siamo una squadra che non ha tanta esperienza e per volte perché lui anche gioca in Primavera, ma noi stiamo cercando di avere il meglio spazio per far progredire un giocatore che ha bisogno di giocare. Quando Serena è sempre bravissimo, oggi ha entrato, ha fatto un gol, ma per me il più importante del gol è vedere la forma come lui lavora per la squadra, come difende, come aiuta la squadra, dopo il coraggio di essere sempre la squadra, non mi sembra essere un ragazzo giovane così. Grazie.